L'insenatura Zip-Zag è la via per casa. Oh no! E questa la chiamate nave! Mezza cartucce! Su! Mezza cartucce! Al lavoro! Selti! Stregevoli! Vermiciattoli! Figli di esecrabili! Esche deformi! Persquali! Cosa ha detto? Se non renderete questo ghiacciolo degno del mare entro il tramonto, vi punirò con il giro di chiglia! Allora, che ne pensate? Tre parole. Gestione della rabbia. Parlo della cor...